Signore, fallo eh! Hai visto la gamba a testa? Solo sei, solo me! Vai da me! Vai la mano mister! Ma che cazzo stiamo facendo? Ma che cazzo stiamo facendo? A testa! A testa! Christian, posso giuro da non guardare la palla, Christian! A testa! Vai Raffaele, vai Raffaele! Vai Raffaele, vai Raffaele! Aspetta che deve fischiare! Deve fischiare! Se non fischia che palla! E se sta parlando con me che palla! Signore, dieci metri dietro da parlare! Signore, dieci metri dietro! E sto dicendo che dieci metri dietro! In mezzo, mister! In mezzo! E' folle Salberto, è leggermente folle. Grazie.